Guglielmo Epifani è lui il traghettatore della crisi del Partito Democratico, un partito lacerato che l'Assemblea Nazionale cerca in tutti i modi di ritrovare una compattezza da spendere al Congresso Nazionale, appuntamento che sarà rifondante per la compagina politica. Deborah Serracchiani, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, è una delle anime vincenti del PD. Io speriamo che me la cavo, credo che sarà opportuno, io almeno auspico che sia così, che non ci siano rotture, che non ci siano accordi che non possono essere facilmente spiegati, ma che ci sia semplicemente la consapevolezza di un partito che ha bisogno di rifondarsi e quindi una reggenza che ci permetta di avere già un impegno per una data certa di preparazione di un congresso che porti ad un cambio della classe dirigente. Un commento a caldo rilasciato dal Presidente all'inaugurazione della Galleria di Chiusaforte, un'occasione per evidenziare che anche nel campo delle infrastrutture bisogna essere realisti. Vanno fatte quelle che realmente si possono realizzare, i sogni sono deleteri. Oggi parlavo anche di una capacità che deve ritrovare la Regione Friuli Venezia Giulia di dialogare e collaborare con ANAS, sono convinta che possiamo fare ancora bene alcuni investimenti. La terza corsia della 4 in primis, ma anche la messa in sicurezza dalla Valcellina, le priorità del Friuli Venezia Giulia.